Cari amici, ciao da Antonella e benvenuti nel nostro spazio che ci propone i più importanti aggiornamenti per quanto riguarda il mondo del cinema. Il regista più fantasioso e l'attore più versatile, rispettivamente Tim Burton e Johnny Depp, tornano a lavorare insieme per quello che si preannuncia essere il film più atteso del 2010. Una tecnica avanzata e personalissima ancora più spettacolare in 3D. Ci aprono le porte del Paese delle Meraviglie con Alice in Wonderland.